Valorizzare i biodistretti e renderli un punto di eccellenza del territorio, se ne è discusso a Pollica nell'ambito del Festival della Dieta Mediterranea. Ad intervenire fra gli altri Antonio Nicoletti, responsabile nazionale delle aree protette di Lega Ambiente, e Rossella Muroni, deputata di Liberi Uguali ed ex presidente nazionale di Lega Ambiente. Noi crediamo che il biodistretto sia uno strumento utile soprattutto alle aree protette, perché le aree protette devono garantire sì la conservazione della natura, della biodiversità, ma devono anche essere attivi nelle attività economiche. L'agricoltura è un pezzo fondamentale dell'economia del Cilento, perciò noi siamo convinti, per questo promuoviamo la nascita non solo del biodistretto del Cilento, ma più in generale i biodistretti in giro per l'Italia, perché crediamo che siano utili anche per dare una mano alla piccola, piccolissima agricoltura, perché spesso e volentieri le risorse finanziarie, anche quelle europee, arrivano ai grossi imprenditori, ma ai piccoli rimane poco, e soprattutto sono quelli che devono essere più di altri aiutati, perché sono quelli che più sono bravi a mantenere la biodiversità. Il Cilento ha rappresentato un'unione popolare tra un tema che spesso è stato elitario, quello dell'agricoltura biologica, e la voglia dei cittadini di mangiare sano, e quindi anche da un punto di vista culturale ha svolto un ruolo davvero importante e continua a svolgerlo. Il nostro paese purtroppo non procede invece da un punto di vista delle politiche in maniera abbastanza rapida, come invece dovrebbe essere. Noi abbiamo ancora una legge ferma sul biologico che invece andrebbe rapidamente approvata, così come andrebbe data nuova linfa anche da un punto di vista legislativo al tema dei biodistretti, che è l'organizzazione territoriale che dovrebbe favorire l'agricoltura biologica, non come comparta a sé, ma proprio come sistema territoriale. Su questo c'è molto da fare, io personalmente mi impegnerò a moltissimo, e penso che iniziative come queste servano proprio per far capire alla politica quanto sia importante dare gambe e strumenti a questo nuovo modo di fare economia, che coniuga l'agricoltura, il mangiar sano e il protagonismo positivo dei territori.